oh nononoantono ha persofto eh? ma io so' fortissima si io so' un mostro a scuovetti ti sei giocato 5 mila euro a scuovalli mortaggi tua e poi con quel balde gio giorni Eh, se può essere più coglioni, hai perso 5.000 euro che erano i nostri. Ma io stavo a andare a prendere la...